Si mise ad urlare, due punti Dove siete? Martin, Lucas, professore Il vento morto di quel pianeta non gli portò risposta Allora l'astronauta mormorò disperato, due punti virgolette Ma chi cazzo è che suona? Vengo, vengo Chi è? Sono io, non mi vede? No, non vedo, si metta bene in luce Adesso mi riconosce? Purtroppo si Oddio, penso che... Quello che in mano vale tutto il resto è arredamento Scusi ma dico io, con tutti gli ufficiali giudiziari che ci sono A me deve capitare sempre lei, soltanto lei Purtroppo sono specializzato in intellettuali, brutte bestie mi creda Dunque come lei sa, la legge dice che io posso sequestrare qualsiasi cosa fuori che gli oggetti personali Che sono quelli che io addosso, inoltre lei mi deve lasciare tutti gli strumenti che mi servono per il mio lavoro Sì, più o meno è così Vediamo un po' Mi sembra che ci sia tutto, le solite cose Sua moglie? Non c'è? Perché? Vuol sequestrare anche lei? Questa è una battuta degna delle sue commedie L'ho vista l'ultima, sa? Ci sono stato con una ragazza, la prima Mi ha mollato quella sera stessa Meno male No, voglio dire, mi dispiace Senta, ma noi ormai ci conosciamo da tempo, non potrebbe rinviare il sequestro? Ma certo, lei paga e io rinvio il sequestro Vediamo un po' la sua pratica Certo che lei non è un bel casino, ma come fa a vivere? Senza soldi, senza successo e anche senza mobili, perché adesso qui sbaracco tutto E chi se ne frega, faccia pure Mi dica la verità, ha mai pensato seriamente a suicidarsi? No, perché vedi, io al contrario di lei, ho una bella vita, un bel lavoro e una bella moglie Moglie? Lei la chiama moglie, ma non è sua moglie Perché lei se la fa, ma si guarda bene nello sposarla Senta, la signora deve essere un tipo molto caldo, vero? Ha detto deve essere una porcona, una bestia Ma a lei cosa gliene frega? Si ricordi che oltre ad essere un pubblico ufficiale, io sono anche un uomo Allora, scusi, se lei è un uomo, perché non mi dà una mano? Va bene, io le vengo incontro, lei mi dia delle garanzie e io le rimando il sequestro Eh, io le ho le garanzie, venga, venga Eh, è il mio lavoro Guardi, venga a leggere Senta, le posso parlare da uomo a uomo? Sarei molto felice Io i suoi lavori li conosco Lei scrive delle stronzate terribili Io scriverò delle stronzate, ma... Ma lei è uno stronzo Questa è un'offesa pubblico ufficiale Non avevamo detto che si parlava da uomo a uomo? Ah già, è vero, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al mio lavoro Io ho cambiato, non scrivo più per il teatro Bel colpo, così ha finito di rompere i coglioni all'umanità Guardi, io sto scrivendo un romanzo eccezionale, mi creda Veramente fantastico Ah Di fantascienza Ah sì? Rischia di diventare più grande il successo dell'anno Lo vuole leggere? Eh certo Venga E lì... Vuole che le dia una mano? No, no, ci penso io, grazie, faccio da solo Guardi, secondo me l'inizio è folgorante Legga, legga, lega Il protagonista appare subito emblematico e universale Eh? Eh? Cosa ne pensa? Come ha detto che è all'inizio? Folgorante E il protagonista? Emblematico e universale Bene Continui su questa strada Grazie Ma senza i mobili però Ragazzi, qui si sbaracca tutto, eh? Tutto Mocchietti, rubinetti, parafulmini, tutto Speriamo che ci sia a quest'ora Sì, avvocato Manetta Chi è? Ah, Enrico Eh, ciao Dì, dì No, no, non disturbi affatto, no Stavo... Stavo qui con il notaio Dimmi Beh, vedi È che mi accorgo solo ora di essere un po' Un po' a corto No, aspetta, ascolta Te l'ho detto Ho chiuso con il teatro No, non torno indietro In fondo è un affare che ti propongo Invece di rischiare un patrimonio su un'altra commedia Tu potresti anticiparmi, diciamo, uno, due, tre milioni sul romanzo Che io poi ti restituirei se... Alto! Pronto, Enrico? Beh? No, le Merit no, eh Sono più veloce di una gazzella Sì, ma io non ho mai visto le gazzelle fumare Quando sono sudate fumano Me le rende perché sono uno strumento di lavoro No, no, lei meno lavora e meglio è Almeno uno Tenga Barbone E ci ripensa a quell'idea del suicidio Mi pensa o no? Ciao, pistolone Bacini alla signora